Che piacere vederti, sono anche tu oddia. No, signore. Voglio parlare della mia storia d'amore. Tu sei una grande viaggiatrice. Tu avrai una lunga vita. Avrai molti amici. Farai molte esperienze. Avrai due matrimoni. Uno lungo e uno corto. Quello attuale è lungo o corto? Non si sa. E anche perderà tutti i tuoi soldi. Credo entro i prossimi sei o dieci mesi. Ma stai tranquilla. Riuscirai a riaverdi tutti e anche più. E poi tornerai a Bali. E vivrai qui per tre o quattro mesi. E insegnerai a me la tua lingua. Non ho trovato mai nessuno per esercitarmi. E in cambio io ti insegnerò tutto quello che so.